Allora ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su Rainbow Seeds E faremo le classificate Perché mi è andato su Velvet Cell E giocheremo con i miei due operatori preferiti per ora Che sono Hibana Per attacco E in difesa c'ho Caveira Sono per ora i miei preferiti E io direi subito di incominciare senza perdere tempo Tanto guardate che scarsa illuminazione che c'ho Allora io direi di Molto più HB Io ve lo dico Vorrei portare più video su Rainbow Però appunto non C'è il tempo non me lo permette E anche se C'è Tempo c'è Ma non ho tempo per Per appunto caricare i video È così Perché ho tipo 4 video Che dovrei postare So che li uso quando non starò bene Li posterò Così che non vi porto contenuti per un anno Perché quando sto male Sto male per un anno Io direi subito iniziare Allora siamo alla base di Hereford Artificieri quindi Ovviamente Col disinnescatore Che sfiga di mezza Ebbene Difendiamo Io subito prenderei Caveira E' mio Andiamo qui da basso Perché bisogna partire profumato E poi finiremo puzzolenti Perché avremo soldato Queste sette camice Per voi Vamonos Tra l'altro ragazzi Guardate la nuova Questa è un animale Se non si arrede Vai Io mi riparo qui dietro Quindi raga Siamo a caveira Quindi Escapist Tutte Siamo a 10 secondi C'è un bel buco qui Così se ci volgono di entrare da lì Li ammazziamo E vamo Vamonos La squadra d'attacco Non ha ancora trovato una bomba Metto il muro Non stare molto attento Cacchio rega No hash C'hanno pure Hanno trovato una bomba Va a difesa Raga via di qui Via di qui Via di qui Via di qui Scusami fratello mio E' già uno via Lì frate Uia Uia No rica Ma micchia Abbiamo vinto però Raga mi si è buggato il mondo Sono cascato giù nel vuoto C'è madonna rega C'è madonna rega Era bella questa eh Noi andiamo adesso con la nostra Bellissima Hibana Ragazzi Adesso vi propongo questa cosa Dato che io non ho il season pass Però tra poco usciranno Non so precisamente quando Ma tra poco usciranno I nuovi Operatori di Hong Kong Che sarebbero Spider Spider non posso non comprarla Perché il ragno È il simbolo del mio canale Quindi se non lo prendo Sarei un infame E quindi Prendiamola Veloce Quindi non vedo l'ora che uscirà Perché Dovrebbero uscire tra questo mese E quelli prossimi Tipo E già uno Ciao bello Ciao bello Uno e uno due Vamonos Ciao bello Ciao bello A casa A casa ecco A casa Che vuoi pure fottere Vedrei mettiamoci qui Brutta qui Brutta Però per fortuna abbiamo Ibana Che possiamo perforare I muri Cedere di sbloccare la bomba Ok Pro 말씀 Pra c referenced Saic So E Things Appendiana Crescent Juscia Sbloccare la bomba Sbloccare la bomba Petra Sbloccare la bomba Le Pred históri Crescent Mais mio tempo io non vorrei che mi inculino da qui raga ecco c'ha uno sputo di vita come si sa dire raga siamo in due contro due merda merda sto buchino mannaggia guardalo ha sparato al vuoto solo che io sapevo che c'era qualcosa lì che è il drone di eco però dai l'assist l'ho fatto si scemo raga mi piace un tot mi piace troppo un tot fatto pure un bel colpo questo bravo quindi raga lo faccio per voi come ciccio dealer prendiamo di nuovo caveira e io direi mettiamoci in un post dove non ci possano trovare e mettere qui sopra metterei al terzo piano no scherzo è il secondo piano perché non si conta mai quello terreno comunque raga questo video lo farò con la webcam perché appunto ho cambiato coso ho cambiato fornitore di video infatti adesso c'ho sony vegas anche se sinceramente gli confesso una cosa quando adesso che sto rigettando questo video non ce l'ho ancora solo però so che lo sto scaricando e so c'è il galvo 102 che mi da una mano il muro è stato rinforzato buchine 10 secondi restano 5 secondi dovete impedire che il nemico mi si metti le vostre bombe però questo è un problema è un problema vedi che la e l'arguardo le l'arguardo e l'arguardo e l'arguardo e l'arguardo per l'arguardo e e Ti interroghiamola Vaffanculo Si può dire Che aveva uno scuote di vita questo L'avevo ferito pure E in più potevo pure ammazzarne Uno in più Comunque raga Questo gioco è È qualcosa di stupendo È qualcosa di stupendo raga È qualcosa di stupendo Mi piace un tot Intanto siamo già a 12 minuti In registrazione Buono È qualcosa di stupendo È qualcosa di stupendo Mmm È qualcosa di stupendo raga È qualcosa di stupendo raga Raga una cosa che non ho mai capito È perché pure quando ti cattura Il drone Cioè il 10 secondi L'IDS L'IDS Sì Vabbè quello di mute Perché ti dà ancora la possibilità di saltare Perché sinceramente non ho mai capito Raga È una delle poche cose Che non ho mai capito il senso Ciao zio Ciao zio Subito Vabbè a primo colpo Possiamo già entrare Vabbè a primo colpo Il bimbo è avviato, proteggete il bimbo scattore. 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 Bella sta postazione. Rimangono 10 secondi. Restano 5 secondi. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Il bimbo è avviato, proteggete il bimbo scattore. Il bimbo è avviato, proteggete il bimbo scattore. La squadra d'attacco disarva una bomba. Disattiva del bimbo scattore. Il bimbo è avviato, rimasto. No, riga! Che cosa ho sbagliato? Che cosa ho sbagliato? Ho fatto due kill della madonna. Sei andato davanti a questo e mi era finito i caricatori. No, riga! Non ci credo qua. Prendo io di ne scattore e andiamo. Loro non posso andare da basso però perché la foto scozzata non va bene. Non ho fatto niente io. Io? Non ho fatto niente. Buono! Si stanno ammazzando tra di loro, giusto? Meno male. Cioè, per una volta sono felice che si ammazzino tra di loro. Di solito mi incavolo. Ma per una volta sono felice. Perché vuol dire... Uno in meno vuol dire che noi abbiamo possibilità di ammazzarli. E siamo meno in svantaggio. Io piazzerei qui sopra. Ma fancuore mi hanno visto il drone. Prima cosa che spacchi è quella. Raga, però stavolta non voglio essere troppo banale perché... Da un po' magari i nemici scoprono le tue mosse. E allora... Cosa faccio io? Raga, non mi piace. Raga, non mi piace qui. Come non funziona, rega! Come non funziona, rega! No! No, rega! Porco diavolo! No! No! Va bene! Super grande, rega! Abbiamo fatto undici kg che sono arrivato prima e lui tredici! Raga! Cioè, scuola perfetta! E abbiamo vinto, rega! E abbiamo vinto, rega! Io vi invito a lasciare un like! Iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto! Guarda l'occhio di editor è tutto! Guardiamo solamente quanto soldi ho guadagnato! E vi saluto così voi! Adesso vi lascio andare a fare i coppiti! Undici kg è un totale di... Quattrocento! Rega! Bella! Quattrocento!